vediamo questo sembra richiama forse quello che c'è fuori guardate ma è profondissimo un pozzo e poi però sotto vedi che c'è un ambiente soprattutto verso monte c'è un ambiente ma guardi quanto è profondo questo probabilmente è l'unico ambiente con quel pozzo che abbiamo visto adesso siamo nel vuoto perché poi è così profondo che ci si può camminare anche nei piedi è un ambiente molto grande e che poi soprattutto da quel lato continua c'è un'apertura e un camminamento che probabilmente comunicava con l'altra apertura dove c'era la vera da pozzo quindi infatti sotto si cammina cioè si può entrandoci calandosi cioè si potrebbe ma ora non è che siamo attrezzati ora no però dico io penso che ci sarebbero ci saranno dei camminamenti attraverserà tutta questa zona si arriva sicuramente perché ha visto che cammina verso monte e quindi comunica con quell'altro ambiente ipogeco che c'era all'ingresso proprio del complesso di abitazioni e poi bisognerebbe esplorarlo io mi spiego una cosa se questo buco già c'è evidentemente qualcuno ha cercato perché non si è formato così da solo questa è una soletta recente che avranno fatto chissà nel novecento anni fa ma guardi che bello guardi come sono fatte benissimo le pareti del pozzo come è ben rifinita bisognerebbe vedere se era possibile calare la cinepresa così almeno guarda vediamo perché mi metto una curiosità mannaggia o con il bastone però con il bastone non vorrei che no no la perdiamo meglio non perdere la delegame no se no con la cintura no poi li cadono i pantaloni non rischiamo niente dottore Enrico no ma io ti riparto e vediamo facciamo così ecco tutto in presa diretta no ecco il pantalone lì ecco aspetta vediamo cosa vuole fare il dottore Enrico Bono e vediamo se si può calare quella là quella là la telecamera di Antonello Vizzone così finisce di fare i suoi cortometraggi che peccato perdere questa telecamera no non la perdiamo ecco scusa avevamo quella piccola di Giuseppe eh fatti così non dovremmo perderla ecco ecco la fa Antonello voi rimanete sempre lì davanti al televisore perché vediamo quello che potrebbe succedere qualcosa potremmo vedere no speriamo niente di grave mi sa che andiamo a prendere un'altezza va bene se si abbassa pure lei col braccio no piano piano questo è vero adesso io sono curioso di vedere la puntata così anch'io vedrò piano 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 e la luce facciamogli la luce pure ecco 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 così ecco vede che sta girando da sole è una cinepresa ammaestrata così fa a giro la giri pure lei che ancora ecco la giri ancora ecco speriamo che la luce sia sufficiente perché se le immagini sono un po' in movimento però è sempre bello far vedere ecco vedere cosa c'è sotto visto che non possiamo calare speriamo che non ci siano morti eh infatti io sono curioso di vederla di vedere cosa attenzione grazie a tutti